Con Daniele Amerini, ex centrocampista, collaboratore di Moreno Roggi, nonché da poco abilitato come direttore sportivo. Parliamo del campionato. Ieri, nell'ultima giornata del 2012, il campionato tonfo del Milan contro la Roma. Te l'aspettavi? Un tonfo così clamoroso no, però è chiaro che in questo momento i valori del campionato dicono che la Roma è superiore al Milan. Vedo un Milan in grande difficoltà, una difesa secondo me non all'altezza della storia del Milan e se a gennaio non correranno i ripari, secondo me due difensori di buon livello, per il Milan sarà dura da qui alla fine del campionato poter competere per l'Europa. La Roma invece sta iniziando a pagare il lavoro di Zeman, è chiaro che la fase difensiva rimane sempre un po' il punto debole della squadra, però sappiamo che la Roma nei momenti di forma assoluta credo sia una delle poche squadre, anche in Europa secondo me, imbattibili. Tornando al Milan, la priorità dunque, secondo quello che dicevi poco fa, è acquistare almeno un difensore, più che l'attaccante dunque bisogna puntare sul rinforzo in difesa? Ma al Milan secondo me ci vogliono diversi innesti, secondo me la priorità è la difesa perché è quella che, io lo dico dall'inizio del campionato, è il punto debole secondo me della squadra, però è chiaro che manca anche un grande attaccante, è andato via Ibrahimovic, anche se esplode il Sharawi, manca un attaccante di peso, a centrocampo, mi sembra un centrocampo un pochino compassato, ci vorrebbero secondo me una rifondazione da capo, sarebbero tre o quattro innesti per tornare a un Milan di grande livello, anche se credo che verrà rimandato tutto a giugno. Nomi, ti aspetti qualche colpo veramente importante a gennaio? Ma qui in Italia in generale non credo che ci siano grandi colpi, probabilmente l'Inter dovrà fare un attaccante di un certo livello, il Milan, appunto vedremo se riuscirà a prendere una punta, secondo me però, di quelle che già ci sono in Italia, la Fiorentina potrebbe fare un colpo davanti, secondo me, o in Spagna o in Sud America, visto anche come si stanno muovendo Prade e Massia, e adesso la Juve, secondo me, dovrà prendere un difensore per impiazzare Chiellini. Parlavi dell'Inter, è stata un po' troppo frittolosa la scelta dei neri azzurri di accantonare Sneijder? Su Sneijder chiaramente hanno pagato un pochino le disavventure fisiche, visto che spesso ha avuto problemi fisici, quindi sia il presidente che Branca credo che siano un pochino stanchi forse di non averlo in campo. Allo stesso tempo, secondo me, non è stata gestita nel migliore dei modi, perché quando poi un dirigente va in televisione ad affermare che il giocatore finché non firma il rinnovo del contratto non giocherà, poi è a rischio veramente mobbing, quindi poi dopo l'hanno ripresa un pochino, però io Sneijder lo vorrei in campo, chiaramente se sta bene, se al massimo della condizione, non posso conoscere le cose come stanno veramente in casa Inter, però io Sneijder lo vorrei in campo. Se hanno scelto differentemente probabilmente ci sono cose, secondo me, esterne al campo. Parlando invece della Juventus, Peluso può essere davvero il rinforzo giusto per la difesa, comunque un ritocco per dare un'alternativa in più a Conte? Potrebbe essere un rinforzo importante perché sta dimostrando ormai il secondo o terzo campionato che sta facendo ad alto livello. È un giocatore che può fare sia l'esterno, basso, sinistro, che il centrale difensivo, visto che lui è nato da giovane e giocava al centrale difensivo, quindi può ricoprire diversi ruoli. Potrebbe essere un ottimo rincalzo per la Juve, non ancora a livello, secondo me, dei titolari che ha, però in caso di emergenza può essere un giocatore che dà delle garanzie. Il Napoli invece quanti acquisti farà? Il Napoli storicamente, insomma, a gennaio si muove... Anche la penalizzazione. Si muove il giusto, però credo che, visto che appunto ha perso Aronica, ha perso Cannavaro per squalifica, dovrà in qualche modo rinforzare sicuramente la difesa e per me dovrebbe risolvere il problema cronico che hanno, che è quello di un giocatore che possa essere complementare e quando non c'è sostituire Cavani. Hai parlato per la difesa di Neto del Siena, giocatore che ti convince già. Ma l'ho visto un paio di volte, sinceramente mi ha sorpreso perché è un ottimo giocatore. Da Siena a Napoli credo sia un po' dura, visti anche, insomma, i vari Fideleff, Britos, che i difensori che vanno lì non è mai facile. A Napoli è una piazza molto difficile. Infatti alla fine, abbiamo visto, giocava sempre Aronica che è un ottimo giocatore e secondo me perderanno anche un uomo spogliatoio nel Napoli. Però, insomma, Totò è andato a fare, credo farà, ancora non so se ha firmato, comunque, due anni di contratto a Palermo, credo che abbia fatto una scelta saggia. Sull'attaccante si è parlato, tra gli altri, di Bobadiglia, dello Young Boys, un giocatore che si è fatto già vedere, in particolare in Europa League contro l'Udinese, ha segnato vari gol contro i Friulani. Sì, mi ha stupito, non lo conoscevo, l'ho visto appunto, l'ho scoperto anch'io in Europa League, credo abbia fatto 21 gol in 21 partite in Svizzera, un campionato chiaramente più facile, però è un campionato da cui sono usciti sempre degli ottimi giocatori, quindi potrebbe essere un rinforzo di valore, potrebbe essere appunto quel giocatore che può sostituire anche Cavani nelle poche partite che salta, fortunatamente, per il Na.